di jonathan swift i viaggi di gulliver seconda parte voce di lorenzo pieri capitolo primo parte prima l'autore gettato da una grande tempesta in una terra sconosciuta mentre va alla scoperta del paese è fatto prigioniero da uno di quegli abitanti e portato in una fattoria trattamento che ne riceve e vari accidenti che gli capitano descrizione di brobdingnag e del suo popolo la mia natura e la sorte mi avevano evidentemente destinato ad una vita attiva e burrascosa perché due mesi dopo il mio ritorno nel paese natale sentì il bisogno di abbandonarlo ancora il 20 giugno 1702 partì dalle dune sopra il bastimento l'avventura il cui capitano giovanni nichols nativo della cornovaglia partiva per surate fino al capo di buona speranza dove approdammo per attingere acqua avemmo il vento favorevolissimo dovemmo restare al capo sino alla fine di marzo dell'anno seguente poiché il nostro capitano era afflitto da una febbre intermittente poi rimettemmo alla vela e navigamo felicemente fino allo stretto del madagascar ma quando fumo a nord di questa isola a circa 5 gradi di latitudine sud i venti che da dicembre a maggio soffiano costantemente in quei mari fra il nord e l'ovest il giorno 19 d'aprile cominciarono a soffiare con violenza da ovest e così durarono 20 giorni spingendoci un poco a oriente delle molucche circa 3 gradi a nord della linea equinoziale secondo le osservazioni fatte il 2 maggio quando il vento si calmò del tutto ma il capitano navigatore espertissimo di codesti mari ci consigliò di prepararci per l'indomani a una tempesta terribile e così infatti accadde poiché un vento di sud chiamato monsone cominciò a soffiare noi serrammo la vela del buon presso nel timore che il vento diventasse troppo violento e siccome l'uragano infuriava sempre più forte facemmo incatenare i cannoni e chiudemmo anche le vele di mezzana giacché il vascello essendo a largo credemmo che fosse opportuno prendere il vento in poppa la mezzana e le scotte furono ripiegate e il timone governava bene ma quando alzammo la vela maestra ci fu strappata dalla forza del vento tanto che dovemmo ammainare per sbarazzarla tagliando tutte le scotte e le corde che la tenevano il mare era agitatissimo le onde si frangevano l'una contro l'altra il timoniere non poteva governare da solo sì che tutti dovemmo aiutarlo non volevamo ammainare le vele dell'albero maestro perché il vascello si reggeva meglio andando col vento e noi eravamo persuasi che facesse miglior cammino vedendo che dopo la tempesta ci trovavamo sempre in alto mare riaprimmo la mezzana e la maestra e stringemmo il vento quindi spiegamo l'artimone e il grande piccolo trinchetto la nostra rotta era di est nord est il vento veniva da sud ovest ammarammo a tribordo aprimo tutti i bracci verso il vento bracciamo le boline e stringemmo ancora il vento con tutta la velatura spiegata durante questo uragano a cui tenne dietro un vento fortissimo d'ovest sud ovest fumo spinti secondo i miei calcoli circa 500 leghe verso oriente tanto che neppure il più vecchio ed esperto marinaio avrebbe saputo dire in che parte del mondo eravamo tuttavia i viveri abbondavano il bastimento reggeva bene il mare e la ciurma era in buona salute ma soffrivamo per la penuria dell'acqua piuttosto che volgere a nord avvicinandoci alle parti situate a nord ovest della grande tartaria o nel mar glaciale preferimmo navigare diritto davanti a noi il 16 giugno 1703 dall'alto dell'albero di parrocchetto un mozzo scoperse terra il 17 distinguemmo chiaramente una grande isola o un continente era difficile sapere che cosa fosse da cui sporgeva nel mare a destra una piccola lingua di terra formando un piccolo seno dove un vascello di 100 tonnellate non poteva entrare per mancanza di fondo ci ancorammo ad una lega da codesta baia e il capitano mandò a terra una scialuppa con 12 uomini bene armati e con dei recipienti per prendere acqua se ne trovassero domandai il permesso di andare con loro per vedere il paese e fare qualche scoperta arrivati a terra non trovammo né ruscelli né fontane né traccia d'abitanti sicché i nostri uomini dovettero costeggiare la riva per cercare l'acqua fresca più lontano quanto a me passeggiando da solo mi inoltrai circa un miglio nell'interno senza scoprire altro che terra sterile e sassosa cominciavo a sentirmi stanco e non vedendo niente di degno della mia attenzione me ne tornai pian piano verso la piccola baia a un tratto vidi i marinai che erano rimontati nel battello remavano con tutta la loro forza come se cercassero scampo da un pericolo mortale e al tempo stesso mi accorsi che essi erano inseguiti da un uomo di prodigiosa grandezza il mare in cui egli camminava gli arrivava solo ai ginocchi e i suoi passi erano di una lunghezza straordinaria ma siccome quella parte di spiaggia era piena di scogli e i nostri uomini avevano mezza lega di vantaggio l'omone non poter raggiungere la scialuppa tutti questi particolari mi furono raccontati in seguito perché in quel momento pensavo soltanto a scappare al più presto possibile arrampicandomi fino in cima ad una montagna dirupata di lassù scopersi un po di paese che mi parve perfettamente coltivato ma per prima cosa mi stupì l'altezza dell'erba che mi parve sorpassare i venti piedi imboccata una strada maestra o che almeno mi sembrò tale sebbene per quegli abitanti fosse soltanto una viottola che attraversava un campo d'orzo vi camminai per alcun tempo ma non potevo vedere quasi nulla dai lati perché essendo quasi la stagione della mietitura i fusti dell'orzo erano alti almeno 40 piedi mi ci volle un'ora prima di arrivare ai confini di quel campo che era cinto da una stecconata alta almeno 120 piedi gli alberi poi erano così lunghi che non mi riuscì neppure di calcolarne l'altezza al di là di quel campo ne cominciava un altro separato dal primo per mezzo di un fossato per traversare il quale serviva una immensa pietra quattro gradini da una parte e dall'altra vi conducevano ma siccome erano alti sei piedi e la pietra più di venti piedi non mi sarebbe mai stato possibile di passare dall'altra sponda mi accingevo dunque a cercare un passaggio attraverso la stecconata quando scorsi quando scorsi nel campo vicino un uomo della stessa statura di quello che avevo visto in mare inseguire la nostra scialuppa mi sembrò alto quanto un comune campanile e per quanto potei giudicare faceva dei passi di dieci yards l'uno straordinariamente spaventato corsi a nascondermi tra l'orzo ma poco dopo vidi l'uomo sopraggiungere dando occhiate a destra e a sinistra e gridando con una voce più grossa e rimbombante che se fosse uscita da un portavoce mi parve di sentire il tuono tanto era sonora subito sette uomini della stessa statura si fecero innanzi tenendo ciascuno in mano un falcetto grande come sei grandi falci questi individui erano vestiti peggio del primo tal che giudicai che fossero suoi dipendenti uditi i suoi ordini essi vennero a tagliare l'orzo proprio là dove io stavo rincantucciato cercai di allontanarmi in tutta fretta ma era per me difficilissimo muovermi perché i fusti dell'orzo distavano spesso appena un piede fra loro formando una specie di foresta dove mi insinuavo con estrema fatica così tuttavia giunsi ad una parte del campo dove il vento e la pioggia avevano abbattuto la piantagione e lì dovetti fermarmi perché i fusti erano tanto intrecciati da non poterli attraversare e le spighe cadute avevano certe reste così dure appuntite che i miei vestiti ne furono trapassati e la mia carne trafitta e in questo frattempo mi accorsi che i miei titori erano appena a cento yards da me disperato stremato di forze mi lasciai andare in terra fra due solchi e mentre desideravo di morire mi immaginavo la mia vedova in lacrime i miei figli orfani e maledicevo la pazzia che mi aveva fatto intraprendere questo secondo viaggio contro i consigli di tutti i miei amici e parenti in questo stato di agitazione terribile non potei trattenermi dal ripensare al paese di lilliput i cui abitanti mi avevano considerato come il più gran prodigio che fosse mai apparso al mondo dove avevo potuto trascinare un'intera flotta con una mano e compiere altre meravigliose azioni la cui memoria sarà eternata negli annali di quell'impero e che i posteri stenteranno a credere ad onta della testimonianza di milioni di persone pensai quanto sarebbe umiliante per me apparire agli occhi di quella gente fra cui ora mi trovavo insignificante come sarebbe un lillipuziano fra noi ma ciò era ancora il minor male perché essendosi osservato che gli uomini sono di solito selvaggi e crudeli in proporzione della loro forza che cosa potevo aspettarmi se non d'essere divorato in un boccone dal primo di quegli esseri mostruosi che mi afferrasse hanno veramente ragione i filosofi quando dicono che il grande e il piccolo sono relativi forse i lillipuziani potrebbero trovare un popolo così piccolo in loro confronto come essi parvero a me e chissà se questa genia di uomini colossali non sia a sua volta lillipuziana al paragone di qualche altra razza vivente in un paese non ancora scoperto queste filosofiche riflessioni facevo mio malgrado in mezzo al mio terrore e al mio stupore quando uno dei mietitori avvicinandosi a dieci yards appena dal solco dove stavo nascosto mi fece temere d'essere al suo prossimo movimento schiacciato sotto il suo piede o tagliato in due dal suo falcetto sicché quando lo vidi muoversi cominciai a gridare con tutta la forza che lo spavento mi aveva lasciato subito il gigante si fermò e incominciò a guardare attentamente intorno a sé finché mi scorse egli mi scrutò un po di tempo con la circospezione di un uomo che desideri prendere un animaletto pericoloso senza venire morso o graffiato come io stesso qualche volta avevo fatto in inghilterra per prendere una donnola infine si fece coraggio e afferratomi per la vita tra l'indice e il pollice mi alzò fino a tre yards dai suoi occhi per osservarmi meglio indovinando la sua idea risolvetti di non opporre alcuna resistenza sebbene tenendomi in aria all'altezza di più di sessanta piedi mi stringesse le costole in modo da farmi male per il timore che io gli scivolassi di mano allora alzai gli occhi al cielo giunsi le mani in atto supplichevole e pronunziai qualche parola in tono umile e sconsolato adatto alla circostanza in cui mi trovavo perché dovevo temere che da un momento all'altro non mi schiacciasse come di solito si schiacciano certi animaletti sgradevoli per fortuna egli sembrò impressionato dai miei gesti e dalla mia voce e stupito sentendomi pronunziare delle parole sebbene non le comprendesse e cominciò a guardarmi come un oggetto molto strano allora mi misi a lamentarmi e a piangere a calde lacrime e dimenando mi cercai di fargli capire che mi faceva assai male stringendomi fra le dita e gli parve comprendere il mio dolore poiché ripiegando un lembo della sua giacca mi ci rinvoltò delicatamente e corse in gran fretta verso il suo padrone che era un ricco colono quegli stesso che avevo visto per primo nel campo il padrone dopo essersi fatto narrare per quanto potei arguire dei loro discorsi come dove ero stato trovato prese una pagliuzza grossa pressappoco come un nostro bastone e con essa alzò i lembi del mio vestito che a quanto mi parve credette una specie di involucro datomi dalla natura mi soffiò nei capelli per vedermi meglio in faccia e poi chiamò i suoi dipendenti e domandò loro probabilmente se avessero mai trovato in quel podere un animalino che mi somigliasse infine mi posò pian piano in terra su quattro gambe ma io mi alzai subito e cominciai ad andare su e giù maestosamente per far vedere che non avevo alcuna voglia di fuggire costoro si sedettero in circolo intorno a me per osservare meglio i miei movimenti io mi levai il cappello e feci una umilissima riverenza al colono mi inginocchiai e dissi qualche cosa più forte che potei poi tirai fuori una borsa piena di monete d'oro e gliela presentai con gran rispetto egli se la mise nella palma della mano e se l'accostò agli occhi per vedere che cosa era poi la rivoltò parecchie volte con la punta di uno spillo che si estrasse dalla manica ma sembrò non raccapezzarvi si allora gli feci cenno di posare la mano in terra presi la borsa e apertala gli versai nel cavo della palma tutte le monete verano sei scudi di spagna di quattro pistole ciascuno e altre venti o trenta monete più piccole il gigante si bagnò il mignolo con la lingua e così tirò su una delle più grosse monete e poi un'altra ma mi parve non comprendere affatto di che si trattasse infine mi accennò di rimettere tutto nella borsa e riporre questa in tasca ciò che io dovetti fare dopo avere ripetuto parecchie volte l'offerta e sempre senza risultato comunque il padrone dovette persuadersi che io ero un piccolo essere ragionevole e cominciò a parlarmi e gli spiccava bene le parole ma il suono della sua voce mi rintronava negli orecchi come il rumore di un mulino ad acqua gli risposi in varie lingue gridando più forte che potevo e più d'una volta mi accostò a un paio di orza dal suo orecchio ma inutilmente allora mandò i suoi servi a lavorare poi tirando fuori di tasca un fazzoletto lo piegò in due lo distese sulla sua mano sinistra posata in terra e mi fece segno d'entrarvi dentro né ciò mi riuscì difficile perché non era alta più di un piede obbedì tosto e per paura di cascare mi sdraiai addirittura nel fazzoletto ed egli mi ci rinvoltò in tal modo mi portò a casa sua e chiamata la moglie mi mostrò a lei ma la donna cominciò ad urlare in modo spaventevole e retrocedette come fanno le donne d'inghilterra quando vedono un rospo o un ragno però dopo un po di tempo quando ebbe visto i miei modi e la mia obbedienza ai cenni di suo marito s'avvezzò alla mia vista e finì a poco a poco con l'affezionarmi si grazie 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 grazie